I pezzi non ci alzato ci narra uno diciamo quell'altro Guardali, guardali Guarda che roba, guardali Fabrizia vai a bussare sulle porte Vai a bussare, vai a bussare alle porte, vai a bussare alle porte di... Vai a bussare alle porte Fabrizia Vai a bussare alle porte Digli due balena, due balena Non ci credo Non ci credo Guardami Già Guardami Bad onze Bippo Guarda che roba 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 non ci credo 2 balena sono impressionanti ragazzi mi hanno svegliato nel pieno della notte? ora ora non so No, no, no. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Ma questo è il secondo? Sì, questo è il secondo E' un'amo No, è uno sbrego E' un'amo E' un'amo Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. E' spettacolo. Guardali, guardali. Ma quanti ce n'è in prua? Guardali, guardali. Guardali. E' eccezionale comunque